La sede INPS di Sciacca non sarà soppressa né ridimensionata e la rassicurazione giunta dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasquale Tridico. A darne notizia è Matteo Mangiacavallo, deputato regionale, che insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle al Parlamento Nazionale, Filippo Perconti e Rino Marinello e al Consigliere Comunale Teresa Bilello, ha seguito la questione dell'INPS per mesi, al fine di scongiurare sia la soppressione sia il ridimensionamento della sede Saccenze. Il lavoro di squadra ha portato i suoi frutti, commenta oggi Matteo Mangiacavallo, consentendo a questo importante presidio istituzionale di continuare a essere punto di riferimento per i servizi previdenziali nel territorio Saccenze. La paventata chiusura, che rientrava in un piano nazionale di soppressione delle sedi periferiche, avrebbe arricato notevoli disagi all'utenza. Abbiamo sostenuto tempestivamente e opportunamente l'importanza di questo presidio, che svolge un servizio irrinunciabile per un vastissimo territorio dell'area occidentale della provincia, aggiunge Matteo Mangiacavallo, e l'incontro con il presidente Tridico ha dissipato ogni dubbio e rassicurato circa la continuità e la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini. Dunque la sede Saccenze dell'INPS rimarrà, ma entro pochi mesi potrebbe anche traslocare dai locali di piazza Giacomo Brodolini alla Perriera. Gli uffici dell'Istituto di Previdenza Sociale potrebbero infatti insediarsi all'interno dell'edificio che attualmente ospita l'Agenzia delle Entrate, situata in via delle Azelee. L'obiettivo dello Stato infatti è quello di risparmiare sui canoni di affitto, che al momento devono essere garantiti.